In questo breve tutorial ti spiego come abilitare il microfono su qualsiasi applicazione che tu usi quotidianamente quindi tasto destro su start tasto destro su start e andiamo direttamente su sistema una volta fatto vai direttamente su privacy sicurezza scendi fino a giù fino a trovare microfono ed eccoli qua qua tu puoi abilitare il microfono su qualsiasi applicazione che usi per esempio se sulla fotocamera non si sente il microfono devi abilitarlo abd feedback lo abiliti registratore di suoni se provi a registrare dei suoni e non funziona questo registratore devi abilitare il tuo microfono assicurati anche che il tuo microfono sia connesso quindi vai su impostazioni audio scendi fino a giù fino a trovare i microfoni ed eccoli qua ed ecco i microfoni e questo è il microfono che sto usando adesso per fare questo tutorial se in caso stai anche usando per esempio vuoi usare il microfono anche su whatsapp e non si sente devi abilitarlo qua sopra adesso è abilitato su xbox stessa cosa e lo puoi fare anche su altri programmi quindi se avevi problemi ad avere il microfono che non andava sui programmi dovevi solamente abilitarlo su privacy e sicurezza del microfono per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao